Il 500 ce l'abbiamo noi sotto, ci mettiamo dietro. Allora, adesso vi do la direzione, aspetta. Allora, allo stop, direzione Alessandria, ha preso per l'Alessandria. Vado io, vado io che c'è traffico, vado io che c'è traffico. Siamo, arriviamo. Siamo dietro, sta andando verso l'Alobondo. Sì, mi stanno seguendo, stiamo dietro, stavamo trovando i contrasti da l'ora statale. Dai, venite che ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dai, vicino, esprigati, esprigati, dai. Ma blocchiamo la rotonda. Dai, taglia la strada, taglia la strada. Ok, jumpiamo, dai.